Buongiorno. Buongiorno. Hai dormito tanto. Da sera? Noi avevamo delle regole. Scusa tanto, voglio che tu te ne vada, che non so come dirtelo senza sembrare crudele. Saresti dovuto andare via comunque. Sta arrivando la donna di servizio. Oh, salve. Allora vieni questa sera. Ho delle grosse novità. Sono fidanzata. Cosa? Sarai la mia domigiana d'onore. Certo. Ma non so che devo fare. Beh, sai, le solite cose. Puoi organizzare l'addio al nubilato e poi... Oh mio Dio. Vorrei trovare qualche idea per l'addio al nubilato. Io dico Las Vegas. Strip club. Disney World. Non hai pensato? No, adoro i pupazzi. Ho bisogno di annusare l'odore di uno sconosciuto. Fight club. Andremo a un fight club? Non andremo a un fight club. Ah, bene. Saremo noi il fight club. Si va a Las Vegas. Sarà un matrimonio pazzesco e ho delle fantastiche farabutte dalla mia parte. Sì. Ellen, tu non mangi da bistecco? Non si mangia troppo prima di una prova a vestiti. È di gran classe questo posto. Gesù, Megan. Scusate ragazze, dovete perdonarmi. Non so nemmeno da dove mi sia uscito. Vi hanno avvelenato al ristorante. No. Non in bagno. Per favore uscite da qui. Devo andarmene. Oh, oh. Sono un po' tesa quando volo mi scuri. Io di notte ho fatto un sogno. Precipitavamo. Ma c'era anche lei. Come? Lo beva come se fosse l'ultimo. Sono pronta per festeggiare. Così sei la damigella del disonore. Ehi, sono contenta che sia single. Voglio avvinghiamici come una cozza su uno scoglio. Precipitiamo! Stai per fare il grande passo e io sarò lì, proprio accanto a te. Lilian, attenta! Mi dispiace. Dovresti venire con me al matrimonio di Lilian? No. Che cos'è? Qualcuno ha trovato un souvenir. Prendilo. No. Non sai che ti perdi.